Musica Potente appara ragazzi Qua Vax2, oggi sono da sole Siamo tornati con un nuovo pack opening Però, però, però C'è una cosa da dire Che ragazzi io oggi mi sento fortunato Io ho capito una cosa La mia sfortuna appunto Ormai tutti i miei pack opening È dovuta per me A un elemento di questa stanza Che si porta sfortuna E io andando in buono ad analizzare Le varie parti, le varie componenti di questa camera Ho deciso una cosa O meglio, sono andato a dedurre una cosa Che secondo me Ciò che si porta sfortuna è la sedia Quindi io ora cosa andrò a fare? L'andrò a mettere fuori E poi potremo iniziare il pack opening Comunque prima di iniziare Volevo ricordare di passare da Fema Con i tuoi esseri interessati A comprare i piedi di FIFA E di lasciare un bel mi piace Per portarvi un po' di fortuna Ora stiamo andando veramente bene Perché ormai stiamo raggiungendo I 4.000 mi piace in ogni video Quindi 4.000 anche in questo Sono d'obbligo Comunque Andiamo a metter via questa sedia Oh mio dio ragazzi Non avevo pensato Che senza sedia Dovrò appunto Fare questo pack opening Da in piedi Quindi sarà anche Un pack opening Da in piedi Da non seduto E andiamo con questo primo pacchetto ragazzi Oh mio dio Io oggi mi sento fortunato Quindi sono quasi sicuro Che in uno Di questi dieci pacchetti Troverò l'ultimo decision Mi avete costruito di non saltare Quindi ora andiamo ad abbassarci A un po' di Stretching E iniziamo Con uno del Leverkusen Che ovviamente non è Di not the season Va bene Buonissimo C'è un palloncino ragazzi Primo pacchetto Si sa che non si trova mai niente Quindi si partirà col secondo Madonna I numeri Si palleggia intanto Chiude il naso Mamma mia Mamma mia Oh mio dio Chiudiamo gli occhi Ah che due palle G Abbiamo entrato G A B C D F G Oddio una leggenda Abbiamo entrato G X Buono Buono Due pacchetti su due Stranamente Non abbiamo entrato niente Ma noi ve la saliremo E la abbiamo scattato Ci sediamo sul letto Vediamo E Oh ciova Che schifo No 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 Io mi sento ancora fortunato Mi spiace Mi spiace Voglio trovare qualcuno Oh mio dio No basta Dopo questa Dopo questa No Non vuoi Dai Ho fatto Ok Ho urlato fuori Da finestra Figura di merda L'abbiamo fatta Ma Adesso Ci mancano Cinque pacchetti Io continuo A sentirmi Fortunatissimo E ora mi giro Mamma mia Non ci credo In quattro pacchetti Si sa Che possiamo trovare Chiunque Lo sappiamo Dai Io in questo Ora mi sto preoccupando Non posso Non trovare nessuno Neanche oggi No 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 Oggi è un must Trovare qualcuno È un must Ma icon Che schifo Un ES con 91 Xbox Fammi trovare qualcuno Fammi trovare qualcuno Nei pacchetti Fammi trovare qualcuno Nei pacchetti Grazie Oddio Gli abbiamo chiesto Gli abbiamo chiesto Io mi sdraio E che schifo Non ci posso credere No No Non può andare a finire Così anche oggi No 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 E no Facile.it 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 Non ci posso Credere Cioè ragazzi Ora vi voglio far pensare Un attimo Una cosa Solo su YouTube Ho un'apertura Di 30 Se non mi sbaglio 40 Di questi pacchetti speciali E quindi Già mi sembra folle Sta cosa Che io in 30 Ho 40 pacchetti Di quelli speciali Non abbia trovato niente Poi avrò Un'altra Trentina Di quelli normali In cui non ho trovato niente E ci sono YouTuber Che spendono La metà Di miei crediti E trovano Sette volte Tanto Ma io non lo so E ora dobbiamo Andare a aprire L'ultimo pacchetto Io oggi mi sentivo Fortunato Se devo essere sincero Evidentemente Non era la sedia Sfortunata Ma era qualcos'altro Fatemi sapere nei commenti Cos'è secondo voi Che mi porta Cos'è tanta sfortuna Anche se non credo Di far più Bancopening In tutta la mia vita Perché Come vedo La sostanza manca Non trovo mai niente Ma noi andiamo A aprire Questo ultimo pacchetto Battete due volte le mani E noi lo andremo Non è vero Non guarderemo Due volte le mani Ragazzi Vi prego Vi prego Dai Dai No Verbato No 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 Non ci posso Credere Ragazzi Vi prego Vi prego Vi prego Vi prego Vi prego Vi prego Grazie a tutti.